Questa è la storia di un'idea e di chi trovò la strada per farne una realtà. Così da cent'anni un'infinita via fa volare milioni di ciao di come stai seppure noi siamo lontani. Ci fa sentire più vicini e meno soli noi come un cuore che non si ferma mai. Come un cuore che batte per noi è una voce che come una luce brillerà. Questa è Tim e non si ferma mai come un fiume che scorre per noi verso un mare che nuovi orizzonti ci aprirà. Questa è Tim e non si ferma mai. Come un'equipaggio unico che non volla mai non si arrende mai. Così se noi siamo lontani ci fa sentire più vicini e meno soli noi. Come un cuore che non si ferma mai come un cuore che batte per noi. È una voce che come una luce brillerà. Questa è Tim e non si ferma mai come un fiume che scorre per noi. Verso un mare che nuovi orizzonti ci aprirà. Questa è Tim e non si ferma mai. Questa è Tim e non si ferma mai. Come un cuore che non si ferma mai come un cuore che batte per noi è una voce che come una luce brillerà. Questa è Tim e non si ferma mai come un cuore che batte per noi. Questa è Tim e non si ferma mai come un fiume che scorre per noi. Verso un mare che nuovi orizzonti ci aprirà. Questo è Tim e non siаб'. Questa è Tim e non si ferma mai come un cuore che Molto due orizzonti ci aprirà come un cuore che batte per noi. Grazie a tutti